Ciao a tutti e bentornati! Oggi prepariamo insieme una torta veramente veloce ma golosissima. Vediamo insieme che cosa ci serve per preparare una buonissima e sufficissima torta alla Nutella pronta in 5 minuti. Vediamo quindi gli ingredienti che ci occorrono. Gli ingredienti che ci occorrono sono 150 g di zucchero semolato, 150 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 3 uova, 200 ml di latte, una bustina di vanillina e una di lievito, 4 cucchiai di Nutella e un pizzico di sale. Mescoliamo insieme tutte le polveri ovvero la farina, la fecola, il lievito, la vanillina e un pizzico di sale e andiamo a setacciare tutto nella nostra planetaria. Lo zucchero e gli altri ingredienti, quindi le 3 uova, il latte e i 4 cucchiai di Nutella e mescoliamo bene il tutto. Per questo tipo di torta vi consiglio di usare una tortiera del diametro di 22 cm, però è preferibile usare una tortiera chiusa e non a cerniera. Siccome io ne ho troppo grosse, preferisco usare una tortiera più piccola, inumidire della carta forno, strizzarla bene e ricoprire bene la mia tortiera. Inforniamo per 40-45 minuti a forno già caldo a 180 gradi. Per problemi tecnici non ho fatto in tempo a fare la ripresa finale. Ecco la nostra torta alla Nutella. Alla prossima!